Una piccola premessa, mi fa molto piacere essere qui questa sera a parlarvi di questa difesa perché io non sono mai stato un grande amante della zona, anzi sono sempre stato discretamente allergico e sono stato sempre discretamente allergico fondamentalmente per un motivo di base che sono un caga sotto e onestamente a me tutti quei tiri da tre punti che una zona inevitabilmente concede a più o meno tiratori è qualcosa che mi ha sempre fatto grande paura la seconda cosa che mi ha sempre fatto grande paura sono i tiri aperti negli ultimi secondi dei possessi dove magari hai fatto anche una buona difesa di squadra ma poi inevitabilmente la zona, senza voler usare un francesismo che mi insegnò tanti anni fa Stefano Valoncini che diceva che la zona è come la pelle dei testicoli e qua mi fermo ma pertanto che la muovi qualche tiro aperto lo lascia lasciarne uno negli ultimi secondi dopo magari aver fatto una buona difesa onestamente è qualcosa che mi mette sempre grande timore con questa difesa che abbiamo studiato insieme a Edoardo Casalone che era il mio assistente l'anno scorso e davvero abbiamo cercato di ritagliarcela su misura l'abbiamo chiamata due o tre matchup ma poi non lo so se è due o tre matchup me lo dite voi alla fine ecco questa è qualche cosa che mi sento davvero ritagliato su misura anche di un cagassotto come me e quindi l'anno scorso l'abbiamo utilizzata in alcuni momenti della stagione l'abbiamo utilizzata moltissimo se abbiamo alzato la coppa è perché abbiamo battuto Trieste che era assolutamente inavvicinabile per noi ai quarti di finale facendo 40 minuti di questa difesa e quindi onestamente ci sono affezionati in passato io ho usato la 3-2 matchup che tutti avrete visto fare fino a Nausea da Brescia, da Venezia la mensana crespiana utilizzava quella difesa e ovviamente la casale di Crespi utilizzava quella difesa era una 3-2 matchup molto molto mobile a me piaceva molto vi do un accenno non è argomento della serata e lo lascio solo lì io credo moltissimo nella matchup a livello di settore giovanile parlando ovviamente dall'under 15 in su chiaramente ritagliata annata per annata perché penso che sia una difesa che ti obbliga ad avere grande comunicazione poi attenzione quanto è speculativa lo decidete voi come al solito nel senso che potete fare la 3-2 matchup stando a un metro dalla palla e allora a quel punto lì fate un'altra roba cioè state tutti dentro l'area che è uguale oppure può essere una cosa aggressiva che metta pressione sulla palla può diventare una sorta di difesa di campi questa 3-2 matchup a livello di settore giovanile l'ho usata moltissimo con gli under 19 e under 17 dell'annata 93 l'ho utilizzata un pochino con la squadra under 17 97 98 addirittura una prima infarinatura l'abbiamo utilizzata quando Giampiero Poletti lavorava con me con l'under 15 oltretutto Giampiero Poletti non l'ho mai fatto lo faccio stasera e ho grande piacere di farlo lo voglio ringraziare perché se faccio questo mestiere è una delle tre persone di cui ha merito è sicuramente lui merito o colpa questo poi dipende da ok però è uno spacciatore di passione incredibile meno male che a Casale spaccia pallacanestro perché se spacciasse cocaina saremmo veramente tutti finiti quindi grazie pubblicamente e andiamo a andiamo a noi intanto vediamo se questa difesa è veramente 2-3 o no questo è lo schieramento ci vedete nulla da là vero? e voi ve la metto sul campo questo giocatore è la prima linea della 2-3 questo giocatore è la prima linea della 2-3 sono due piccoli sono il playmaker e la guardia della mia squadra questo giocatore e questo giocatore qua sono la seconda linea di quella che io banalmente ho chiamato 2-3 ok ovviamente il giocatore centrale è il lungo classico della 2-3 che gioca in mezzo all'area questo è lo schieramento di partenza ascoltando le telecronache delle partite dell'anno scorso tutti i telecronisti dicevano Tortona si mette 1-3-1 io giuro non conosco la 1-3-1 però onestamente quello era il nostro schieramento di partenza come è nata questa zona abbiamo fatto un'analisi di determinate cose e ci siamo fissati degli obiettivi che cosa abbiamo analizzato l'importanza è l'incidenza percentuale sul totale del fattorato del tiro da 3 punti non è la percentuale al tiro da 3 punti che chiaramente la percentuale di ogni squadra è diversa ma è quanto quanto contano il tiro da 3 punti sull'andamento delle partite la nostra risposta è stata tantissimo se guardate tutte le partite di qualunque categoria i break vengono scavati dai tiri da 3 punti poi può piacere o può non piacere ma questa è la pallaganesto del 2018 i break si scavano con il tiro da 3 punti personale a disposizione personale a disposizione perché onestamente io nelle mie prime uscite in serie B a Valsesia avevo una squadra molto omogenea dove il 5 figuratevi era Walter Santarossa che in serie A ha sempre giocato da 3 quindi è chiaro che erano tutte squadre era una squadra molto mobile e quindi ho provato a fare un po' di 3-2 matchup poi in realtà non avevo dei grandissimi cervelli e quindi l'abbiamo un po' abbandonata quando sono arrivato a PMS avevo Riccardo Cattapan e non potevo di certo permettermi di mandare Riccardo Cattapan a fare i close out negli angoli cosa che una 3-2 deve fare quindi analisi del personale a disposizione l'anno scorso io avevo Luca Garri e come Cattapan con 15 anni in più di certo non potevo permettermi di portarlo fuori dai 3 punti Stefano prima ha parlato di che cosa si vede sul campo da pallacanestro e secondo me è fondamentale partire da lì anche per questa cosa cioè noi ci siamo detti che cosa vediamo quali sono gli attacchi più utilizzati per attaccare la zona e da lì siamo partiti per dirci proviamo a fare una cosa che ci tutela i Garri che ci consenta di essere comunque aggressivi verso la palla ma questo lo diremo ok e poi cosa fanno contro la zona di solito quindi obiettivi che ci siamo dati il primo costringere a pensare un sacco di squadre eseguono pochissime squadre pensano pochissime e se tu fai pensare gli esecutori di solito vanno a fare una stronzata e quindi il nostro primo obiettivo è stato costringiamo l'attacco a pensare e vediamo cosa viene fuori il secondo obiettivo il famoso voler essere aggressivi contro la palla perché secondo me più si alza il livello più quello con la palla in mano onestamente sa che cosa farne e oltretutto in Italia nell'ultimo periodo abbiamo creato un sacco di tiratori pochissima gente sappia palleggiare ma un sacco di tiratori voler tenere dentro il centro centro inteso come ruolo il nostro numero 5 ok e ricordate prima quando dicevo io sono un cagassotto che non voglio lasciare gli ultimi tiri aperti con il passare del tempo noi volevamo accoppiarci col passare dei secondi quando e come lo vedremo dopo ma tante volte chiamata da noi da noi panchina alcune volte soprattutto quando mi ero rotto le scatole dei pivot e andavo con Sorokas da 5 che è un metro 95 lui è quello che gli americani chiamano un vocal leader capisce il gioco infatti è lituano e quindi tante volte poi era lui a chiamarci il timing dell'accoppiamento avevamo una chiamata per noi white bianco era accoppiarsi e via andiamo questi sono i principi su cui noi abbiamo montato pezzettino per pezzettino la nostra difesa poi che sia 2-3 1-3-1 matchup non lo so fate voi ma io vi farò vedere la nostra zona responsabilità prima vediamo le responsabilità di spazio perché comunque è una zona quindi ognuno soprattutto all'inizio del possesso ha una zona di competenza ok e poi vediamo dopo i dettagli tecnici cominciamo con la prima linea intanto ragazzi facciamo così per piacere mettete tre esterni bianchi punta ala ala con il pallone in punta dai mettiamo anche un bianco possibilmente uno grande vieni tu in post alto ok e mettiamo due piccoli blu per piacere vai un po' indietro con la palla ok due piccoli blu uno a prendere la palla e uno a prendere il post alto adesso per comodità per piacere stai nel mezzo così ok responsabilità della prima linea ovviamente la punta grande banalità ok ricordate l'immagine di prima gergati che aggredisce la palla dove aggredisce la palla decidetelo voi noi onestamente quando arrivavano a un metro da riga di tre punti andavamo a prendere il post alto e l'ho scritto tra parentesi in nero da anticipare sono stato un cretino dovevo scriverlo largo così e onestamente noi l'anno scorso l'abbiamo fatto benissimo tant'è che quando dopo vedrete anche delle immagini video quando cercavo delle clip da mettervi con delle ricezioni in post alto ho trovato due tre clip molto molto brutte sul totale di possessi che era 88 quindi vuol dire che noi questo lavoro qui e adesso man mano che andiamo avanti scoprirete anche perché era una cosa che facevamo molto bene la punta scusate la prima linea ha responsabilità anticipare completamente la situazione di post alto anche se serve giocandogli come così completamente davanti perché tanto dopo avremo il centrale che ci protegge ok ala solo con angolo pieno per adesso tenetela lì tenetela lì diciamo che se la situazione è questa quindi nell'angolo non c'è nessuno se la palla viene passata qui in ala chiappala ok qui non è roba della prima linea ci penseremo da dietro se vi ricordate la fotografia di prima la prima con cui abbiamo aperto è anche è anche chiaro eccolo qui questi due giocatori punta e post alto ok posizione di ala la vedete la vedete solo tratteggiata perché di nuovo andiamo a occuparla se e solo se l'angolo è pieno in una situazione come questa in cui l'angolo non è pieno quindi qui ci pensiamo con un altro giocatore quando la palla si abbassa noi ci abbassiamo con la palla cosa vuol dire tu no no tu sei in attacco gioca per prendere la palla che è lì oltretutto ok qui continuiamo a giocare davanti lì ci schiacciamo sul tiro libero poi è chiaro sul passaggio la palla vola questo deve fare due passi speriamo che ce la faccia se non ce la fa cambio e gioca un altro ok bene seconda linea due neri per piacere uno di qua in ala bello alto uno di là in ala bello alto ok torna la palla in mezzo per piacere torniamo ad attaccarla con la prima linea perfetto ok posizione di ala intanto un dettaglio sulla posizione di partenza mai a limonare così perché se no siamo a uomo ma stiamo con un piede dentro l'area con un piede dentro l'area bravo e con le braccia belle aperte ok direzione del corpo non dettaglio banale a guardare la palla e le spalle ovviamente staranno guardando gli angoli ok la seconda linea si occupa dell'ala la seconda linea si occuperà dell'angolo mi spiego meglio passagli la palla ok ti occupi dell'ala perfetto cominciamo a prenderlo cosa abbiamo fatto prima ti sei schiacciato perfetto tu per adesso sei lontano vieni dentro lì 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 non troppo ok bene si occupa dell'angolo mettiti in attacco un bianco per piacere nell'angolo nel momento in cui la palla va poi dopo quando facciamo le regole vedremo come passagli la palla diciamo che se la palla va in angolo è roba della seconda linea ok il mezzo angolo torna la palla qui mettiti nel mezzo angolo che è questo spesso succede no un lungo in postalto e un lungo nel mezzo angolo il mezzo angolo è ancora roba della seconda linea con un dettaglio diverso che dopo vediamo passagli la palla vai a prendere il mezzo angolo ok vado perché mi interessa particolarmente che abbiate chiare le competenze perché poi le regole le montiamo sulle competenze ultima cosa protegge della seconda linea ricordatevi seconda linea stiamo parlando dei due giocatori che prima abbiamo messo qua in ala ultima cosa proteggere il taglio dal postalto proteggere nel senso che faccio volare io la palla tu la stai marcando la palla vola e quindi tu vieni ok c'è il nostro 5 che taglia ok scusate il 5 il giocatore in postalto che taglia verosimilmente noi qui abbiamo ancora il centrale speriamo che non sia svenuto quindi probabilmente il suo taglio non è dritto per dritto ma sarà un po' a torna indietro sarà un po' a banana verso il lato debole e quindi il ruolo di quel giocatore dopo lo vedremo sarà occuparsi proteggere il taglio del postalto verosimilmente poi lascerà quell'uomo lì al difensore centrale quando lo metteremo eccolo qui di nuovo ala angolo e questa più piccolina che è la protezione del taglio dal postalto ok ultimo giocatore mettiamo il centrale ritorna la palla in mezzo mettetevi schieramento iniziale ok il centrale avrà una responsabilità enorme cioè quella di fare meno strada possibile soprattutto se avete Luca Garri chiaramente si dovrà occupare del post basso nel momento in cui ci sarà una ricezione di post basso e quando dico post basso dico post basso cioè qui perché già il mezzo angolo abbiamo detto prima in quale modo ce ne occupiamo ok ragazzi voi registrate perché poi se dobbiamo farlo ok bene e deve regola antica come no me no perché alla fine non sono così antico stare sempre sulla linea tra la palla e il ferro quindi ovunque vada la palla bravo schippala di là schippala di là alla faccia dello skip ok ok perfetto stare sempre sulla linea tra la palla e il ferro eccolo qui bene dettagli tecnici essere aggressivi sulla palla vicino a riga dei tre punti tracciare i passaggi e forzare a palleggiare ora se noi concediamo all'attacco alla zona di muovere la palla come diavolo vuole gli corriamo dietro e gli prendiamo la targa per tutta la sera noi invece vogliamo sì che se la passino ma che se la passino rallentato non vogliamo anticipare ma vogliamo pressare la palla se il piccolo con la palla in mano è un masturbatore seriale dell'attrezzo e la mette per terra e attacca noi abbiamo vinto perché chiaramente in quanto zona se lasciamo dei lay up allora siamo possiamo essere tutti carcerati vi ricordate la posizione dell'ala di prima? essere tutti aperti e in visione della torna la palla in mezzo e in visione della palla la palla va in ala vai tu continua ad anticipare il tuo giocatore bravissimo ok ma stai aperto verso la palla bravo tutti siamo aperti verso la palla stringo extra string che tradotto in inglese non abbiamo mai capito cosa diavolo vuole però questa è una parola che aveva inventato Marco Crespi a noi è piaciuta un sacco e ce la siamo portati dietro negli anni cosa vuol dire lo string? dopo vedrete delle clip chiarissime lo string vuol dire che bravo tiri la palla tu ok lo string vuol dire che diciamo che tu sei diventato un tiratore e la madonna vai fuori dai tre punti bravo ok chiaramente questo è uno schieramento stupido per attaccare la zona ma è per farvi capire meglio per string si intende dovrei aver scritto anche mai più di due passi dal compagno l'ho scritto? ok bene lui pressa la palla tu stai aperto verso la palla perché se lui palleggia non dobbiamo aiutare perché se no è un tiro facile ma dobbiamo fargli vedere lo spazio occupato vai tutti verso la palla vai buttava per terra e attacca string verso la palla passa la palla ok e tutti ci muoviamo verso la palla ok mai più di due passi di distanza l'uno dall'altro l'obiettivo è far vedere un bel muro blu in questo caso davanti alla palla cosa cambia tra lo string e l'extra string quanto sono scarsi gli avversari nel senso che dopo vedrete delle clip abbastanza chiare con i tiratori string con i tiratori extra string ergo passa la palla qui bravo tu prendila ok se lui è scarso a tirare questo è extra string ok adesso non tenendosi per mano se no diventiamo lenti ma la distanza diventa quella lì chiaramente a sfidare un po' il tiro da fuori tornate in attacco nella posizione di prima close out indirizziamo come siamo comodi in base alla direzione di provenienza mi spiego meglio bene se lui è qui perché siamo all'inizio del possesso ok vi ricordate perfetto e questo giocatore butta subito la palla là nell'angolo e ci può stare ma a noi va bene recupera stop come ti chiami? non ho capito Valentin e adesso se io chiedo a Valentin di buttare lui verso il centro è giusto che qualcuno venga e mi stracci la tessera perché non è fisicamente possibile cioè qua Valentin è scavalcato dalla palla l'unica cosa che posso chiedere a Valentin se lui è un tiratore è ascolta Valentin fammi la cortesia siccome sono un caga sotto togli il tiro e buttamelo sulla riga di fondo posso chiedergli solo questo neanche di tenere posso chiedergli solo di togliere il tiro e buttarlo sulla riga di fondo ok torna indietro siamo all'inizio ok bene adesso faccio volare io la palla posso chiedere a Valentin di buttare lui verso il centro adesso sì perché fisicamente può arrivare anzi devo devo e poi nei dettagli tecnici vedremo il perché ok quindi come arrivo comodo indirizzo va bene cercando di immedesimarsi ok clip dello string per quanto sia visibile guardate questi due giocatori ok qui sono state fermate due penetrazioni solo con lo string praticamente non siamo andati in aiuto mai torna indietro guardate questa parte del campo guardate lui aiuta contro la palla lui aiuta contro la palla ok questo è quello che io intendo per string un'altra cosa di string guardate cosa succede qua guardate la posizione di quel giocatore lì flottato verso la palla extra string eccolo qui ok quindi mai più di due passi di distanza va bene volete rivederla ve la faccio rivedere se riesco ok guardate quella zona là del campo il piccolino è gergati che va ad aiutare contro il post basso salta fuori indirizza verso il centro dove c'è il compagno stringato e fermano quella penetrazione lì ok questa è la dicitura di string che poi è la cosa che più mi premeva andiamo con le regole andiamo con le regole abbiamo queste sono solo dei delle voci che io ho nella testa e che se dovessi allenare loro loro dovrebbero avere poi lo stesso vocabolario perché poi quando difendiamo non è che ci abbiamo un quarto d'ora ogni volta per dirgli cosa dobbiamo fare andiamo con le regole angolo angolo una sega io non sono capace a fare le slide ma la prima cosa perché questa difesa sia efficace è essere rispettosi delle responsabilità di spazio cioè quelle che abbiamo visto fino adesso ok sovrannumero in angolo la nostra chiamata era elastico mi spiego meglio metti la testa sotto la retina perfetto stai lì eh su questo passaggio vi ricordate chi ci va? lui e ci rimane eh tu cosa fai? bravissimo ci rimane poi però lì c'è un tiratore pazzesco che corre nell'angolo fai piano responsabilità sua la comunicazione fermati lì vi ricordate l'essere aperti verso la palla? ecco è quello che permette a lui con la coda dell'occhio di vedere sfilare uno il centrale appena capisce che quello va comincia a chiamare angolo 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 e sulla chiamata angolo 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 succede quella famosa situazione in cui la punta si deve occupare dell'ala l'unica e chi si stava occupando dell'ala corre a prendere l'angolo questo è il movimento che nel nostro vocabolario chiamavamo elastico ok? sapete qual è la cosa più difficile? avete un'idea? bravissimo convincere Luca Garri a chiamare angolo puttana troia medaglia d'oro olimpica ma guardate non è banale perché lui sarà sempre un po' nel dubbio cosa fa quello lì? eh ci deve comunicare per tempo piuttosto una volta facciamo l'elastico una volta in più ok? ma cerchiamo di arrivare puntuali all'appuntamento poi vedremo un dettaglio tecnico importante intanto vediamo le immagini vedete vedete un cazzo perché questa clip è bruttissima torniamo indietro soro casca è questo qui che sto puntando si occupa della palla chiamata elastico la seconda clip invece è molto chiara prima no elastico poi elastico palla in ala seconda linea palla in ala seconda linea angolo che arriva questo Radonis va a coprire l'angolo Melvin Johnson viene a occuparsi della palla qua è molto chiara la no elastico sovrannumero in angolo e tutti si muovono verso la palla ok un dettaglio importantissimo il lavoro di Valentin torna la palla lì il come va via lui lui deve sul passaggio con la testa sotto la retina passaggio in caso si è incomodi a mandare verso il bravissimo due passi di distanza perfetto angolo 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 stop prima di tutto aspettare che questo Cristo arrivi perché altrimenti abbiamo preso un tiro da tre punti mentre arriva comunicazione angolo ecco stop fermo lì avete visto cosa ha fatto con i piedi torna indietro rifaglielo rivedere ok stop questo è il modo in cui prendiamo i canestri da tre punti perché nel frattempo lui è arrivato e adesso la linea di passaggio è completamente sgombra se tu invece da così dove è il pericolo cosa ti hanno chiamato nell'orecchio angolo quindi il problema è là vero ok adesso io siamo a zona l'area è intasata me ne frego di quello che c'è dentro l'area il mio problema è là arriva tiratore quindi io recupero nell'angolo e se lui gioca backdoor chi se ne frega abbiamo vinto ma dobbiamo stare sulla linea di passaggio più pericolosa allenare questa roba è la roba più difficile insieme alla comunicazione del lungo ok però è la chiave però è la chiave perché se non stiamo su quella linea di passaggio tesa o battuta per terra quello è un tiro da tre punti sempre mezzo angolo spero di essere stato preciso torna indietro ok qui però dovete rispondermi voi davvero perché non so se mi sono spiegato torna indietro quando c'è la chiamata angolo qual è il timing in cui questo giocatore va via vi prego datemi una risposta appena il suo compagno arriva ok angolo vai Kiko vai pure vai perfetto così sei stato molto bravo ok mezzo angolo andiamo a fare lo stesso movimento ma qui ha una parte il centrale ok sulla ricezione non prima fate cambio di posizione così magari è un po' più chiaro voi due attaccanti ok tu adesso ti fermi nel mezzo angolo ok benissimo stai sulla palla torna nella tua posizione qui il nostro centrale Alessandro ok vocal leader della nostra squadra è qui e non dice una parola non dice una parola perché questo giocatore è nel mezzo angolo e magari se si ferma nel mezzo angolo è perché non è neanche un grande tiratore quindi aspetta la palla vola fa la rotolare per terra piano piano angolo 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 tu togli un attimo tu recuperi ti giri per andare là ma poi sei mica stupido ti giri non c'è nessuno ok vieni qui perfetto e questa è quella famosa situazione in cui Alessandro per un attimo è responsabile della palla perché Valentine sta recuperando se per caso parte un taglio da qui è quella famosa situazione in cui la seconda linea deve coprire poi tu arrivi tu torni indietro naggia la morte vabbè se riesci sì se no alla peggio cosa chiediamo a Valentine di buttarlo dentro di buttarlo dentro perché tanto abbiamo sempre Alessandro che è lì in agguato per fare un salto di un metro e mezzo e una stoppata giusto? senza salto una stoppata ok ricezione in mezzo angolo elastico torno indietro guardate di là mezzo angolo sulla ricezione Sorokas va Melvin Johnson torna di nuovo mezzo angolo sulla ricezione Alibegovic viene e Spangero ruota la differenza tra angolo e mezzo angolo è che mezzo angolo ricezione angolo appena arriva perché se sta arrivando Daniele Cavaliero che era nella squadra di Trieste non ci abbiamo tempo di aspettare che prenda la palla possiamo già fare la rimessa regole post-alto l'abbiamo detto prima anticipare se post-alto riceve scouting e cosa diavolo vuol dire? intanto come vi dicevo prima stai qua stai qua stai qua stai qua e diamogli la palla come dicevo prima questa è una difesa che ci permette davvero di anticipare il post-alto quindi se non siamo pigri è una ricezione che possiamo fargli tribolare ad avere cosa vuol dire scouting? tiratore pazzesco per esempio abbiamo quella famosa salvezza in calcio d'angolo dell'accoppiarsi no? dopo lo vedremo un piccolo si accoppia da dietro scatta l'urlo white 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 tu più vicino bravo il tuo più vicino bravo il tuo più vicino bravo il tuo più vicino bravo anche senza andare a limonare come stanno facendo loro ma l'idea di accoppiarsi seconda possibilità scouting e noi diverse volte l'abbiamo fatto l'anno scorso magari questo giocatore non grande tiratore ok? Casale Monferrato per esempio aveva due lunghi Severini e Marcius nessuno dei due tiratori era veramente non dico lasciamo ti lasciamo tirare ma quasi cioè era tutti e due dalla prima linea stai lì fai solo finta una mano una mano a togliere sicurezza ok? a forzare lui a passare la palla indietro boom ok? però lì è chiaro scouting ok? se postalto taglia seconda linea è centrale quello che vi ho fatto vedere prima no? lo ricordate? ok adesso comunque lo vedremo tagli dal postalto guardare eh seguite questi due giocatori taglio scambio scambio adesso l'arbitro ha fischiato un fallo in attacco che si è sognato solo lui ma guardate addirittura il famoso vocal leader Sorocas che spinge via il compagno il compagno guardate eh guardate qua tenete d'occhio quei due lì boom spinta ok? sta dentro copre spinta nel frattempo il centrale è tornato dentro l'area ma poi l'arbitro ci ha fatto questo regalo seconda situazione cambio sul pick and roll postalto taglia scambio tra prima e seconda linea guardate qui seconda linea prende il taglio prima linea se ne sta su e fin qua mi sembra che non ci sia niente di particolare ok? regole di tagli consegnare e scambiare tagli perché siamo a zona siamo a zona non siamo a uomo quindi qualunque taglio dopo vedrete due clip di gente che si muove per il campo qualunque taglio noi lo scambiamo ok? lo lasciamo a quelli dietro a meno che non abbiamo scoutizzato che su un gioco su quel giocatore lo andiamo a seguire ok? qua non muovo i ragazzi andiamo solo lì in questa prima clip vedete della gente muoversi tagliare per il campo vedete? guardate le mani dei giocatori che sono tutti che si chiamano i tagli che arrivano e poi là il cretino che in questo momento oltretutto ha chiamato e ci siamo accoppiati e lo vedremo dopo di nuovo tutti fermi laggiù c'è stato un elastico oltretutto ok? tutti fermi li lasciamo andare li lasciamo a quelli dopo ok? tagli scouting colai cavalliero adesso non mi ricordo il nome di questo gioco su questo gioco avevamo deciso che quando lui veniva a sovrannumerare questo angolo lo inseguivamo ok? niente di particolare è chiaro che lì ci vuole un minimo di scouting sulla squadra avversaria oppure sul giocatore avversario non sono sicuro ma possibile che in questa specifica clip qua poi ci siamo anche accoppiati perché i ruoli più o meno ce lo consentivano e qui apriamo un capitolo minchia apriamo un capitolo enorme Silvio a che ora devo finire? fammi capire fino a che ora c'ho? mezzanotte va bene regole pick and roll è molto difficile Reggio Emilia secondo me ci ha lasciato uno scudetto su come difendiamo sui pick and roll bisogna dare delle regole chiare noi abbiamo deciso di dare di distinguere se i pick and roll arrivano da sopra se i pick and roll arrivano da sotto e adesso vi faccio vedere che cosa che cosa vuol dire ma se i pick and roll arrivano da sopra cambio tra piccoli se i pick and roll arrivano da sotto seguiamo con il lungo mi spiego meglio se vedete la clip bene se no ve lo faccio vedere sul campo vabbè doppio pick and roll alto ne parliamo tra un attimo pick and roll da sopra prima linea cioè seconda linea qui questi sono i due giocatori di prima linea si fanno il pick and roll cambio tra piccoli cioè ogni volta che il blocco tiene la palla qua in punta arriva da sopra che cosa? da sopra la riga e il tiro libero sono stato poco preciso quindi qui abbiamo un giocatore nostro piccolo di prima linea questo giocatore si gira marca la palla Chico se no ha segnato da tre punti si gira e viene a bloccare cambio tra piccoli ok? benissimo oppure un'altra situazione dai la palla in ala chi era in post alto? chiedi tu? apriti prendi la palla spaziati ribaltamento vai pick and roll vai ok? cambio bene un dettaglio fondamentale e qui convincere i piccoli durissimo tieni la palla chi lo marchi tu vieni a bloccare ok convincere questo giocatore che è un piccolo in quanto piccolo ha deliri di onnipotenza a non fare un cambio piatto perché il cambio piatto palleggia lascia a lui l'iniziativa e i passaggi di vedere dove vuole dobbiamo convincere un piccolo che anche se è piccolo e quindi protetto dalle leggi federali italiane vai deve uscire come se fosse un lungo aggredire mettere le mani sulla palla perché io degli italiani pigri ne ho le palle piene e convincere questa gente a fare così è durissima durissima ok ma dobbiamo chiederglielo per essere aggressivi e per costringere il palleggiatore a fare che cosa secondo voi che cosa farà lui chiude la palla chiude il palleggio oppure brava fa un palleggio indietro abbiamo vinto se fa un palleggio indietro abbiamo vinto abbiamo vinto ci siamo adeguati ok quindi pick and roll da sopra ne vediamo un altro vedete prima linea cambio ok boom poi loro ci sono venuti tutti a posto ad accoppiarsi e noi siamo stati contenti pick and roll da sotto seguite Garry vedete da dove è arrivato questo qua che è mortellaro è arrivato da sotto è arrivato dall'attacca piena ve lo faccio rivedere guardate mortellaro vedete sul passaggio arriva da sotto qui onestamente non mi ricordo a vedere Melvin Johnson probabilmente abbiamo deciso anche di negare il pick and roll e di fare fondo non importa l'importante è che e adesso lo vedrete quando seguiamo con il lungo da sotto poi regola della giornata cioè qui evidentemente abbiamo fatto fondo prossima clip sempre Garry protagonista altra partita pick and roll che arriva da sotto Garry cambia ok quindi sulla base di quello che facciamo quella giornata lì noi difendevamo anche i pick and roll a zona ok è importante che i giocatori abbiano la chiarezza di dove arriva il blocco perché altrimenti quello che succede è che il centrale che in quanto pivot italiano pigro vuole stare in mezzo all'area con le braccia larghe dirà sempre che è colpa dei piccoli poi i piccoli diranno che è colpa del lungo e siamo nella famosa teoria degli alibi di uno molto più bravo di me doppio pick and roll alto lasciamo stare un attimo poi se abbiamo tempo ne parliamo alla fine regole del passaggio a uomo quando passiamo a uomo ultimi secondi mancano sette secondi siamo più o meno accoppiati andiamo a uomo faranno un tiro su un piede solo buttandosi indietro sì magari segnano anche ma preferisco quello che non un extra pass sull'aiuto e recupero della 2-3 classica ok verso l'angolo e quello è un tiro da tre punti piedi a terra poi può sbagliare uguale ma è sicuramente un tiro a più alta percentuale che non su un piede solo buttandosi all'indietro accoppiamenti vantaggiosi ne avete visto un'idea prima cioè e adesso la vedrete in modo chiaro durante l'azione la panchina percepisce oppure il giocatore da voi incaricato in campo percepisce che ci sono degli accoppiamenti più o meno vantaggiosi cioè dove il 5 sta con un lungo dove il 4 sta con un altro lungo dove i piccoli sono accoppiati passare immediatamente a uomo scouting questo è un po' più fine a noi l'anno scorso è successo che diverse squadre ci hanno attaccato questa zona con i giochi contro la zona come questo schieramento fisso benissimo tu ci attacchi con i giochi della zona noi andiamo a uomo diverse squadre ci hanno attaccato invece con i giochi contro la uomo per esempio il famoso Kinder che faceva per Danilovic e poi l'hanno giocato un sacco per Carton Myers che è il gioco che tutti avrete avrete anche proposto che si chiama in tanti modi diversi ditemelo uno diverso che io non mi ricordo mai io l'ho chiamato Myers Kinder vabbè allora noi a quel punto li stavamo a zona stavamo a zona e loro attaccavano con i giochi contro la uomo clip di accoppiamento vantaggioso guardate eh qua Sorocas vede che questo qui è un lungo chiamata coppie 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 fine della zona siamo uomo contro uomo io questa clip la guardo ancora adesso prima di andare a dormire perché penso che questa sia la difesa dell'anno per le cose che volevamo fare noi cioè zona riconoscere che gli altri vanno cioè abbiamo degli accoppiamenti in cui andare a uomo cambio aggressivo sul pick and roll questi devono fare tre passaggi poi la appoggiano dentro l'area mancano sette secondi andiamo a raddoppiare gliela facciamo saltare fuori ci riaccoppiamo e gli facciamo fare questo tiro questa io la guardo ancora prima di andare a nanna tutte le sere ok perché è veramente tutto quello che abbiamo fatto noi l'anno scorso accoppiamenti vantaggiosi e tempo di nuovo mancano pochi secondi qui loro partono con un doppio pick and roll alto boom 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 siamo accoppiati giusti lassù mancano otto secondi adesso basta cambio ok qua sono anche stati bravi hanno cambiato a tre hanno più o meno risistemato i mismatch e quindi hanno fatto un gran lavoro ultimi secondi tanto ormai avete capito direi che possiamo andare avanti ok dubbi domande perplessità vai la panchina che col calore dei campi di rega 2 eccetto la fortitudo si sente benissimo oppure il a voghera glielo bisbigliavo oppure il giocatore da noi designato la mia squadra era Sorocas l'anno prima loro facevano una zona molto simile era Giampaolo Ricci chi secondo voi ha la sensibilità e soprattutto la l'onestà di chiamare la cosa nel momento giusto che non sia una cosa di comodo personale e la responsabilità chiaro chiaro vai sì sì quando c'è il cambio deve difendere elastico angolo ok attacca la palla anticipa il postalto stai nel mezzo rimettetemi per piacere un tiratore là e un non tiratore qua poi ho deciso che è così poi magari tu fai il canestro a 9 metri e lui mai mai tiratore corre nell'angolo vai angolo 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 tu arrivi vai lui è arrivato via domanda sua a lui è non farsi bloccare quindi io devo scoraggiare il passaggio scoraggiare il passaggio per la media dei passatori italiani e anche solo questo mai questo perché lui chiude e là non arriva nessuno mai questo stesso motivo con quelli bravi e io lì a un paio riuscivo a chiederlo questo perché sto davanti sfido lui a passarla proprio 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 mettila per terra non svenire quindi difendi un po' attacca chico no si però adesso fatti battere un pochino perché altrimenti ok proprio proprio posso comunque mettere una mano e posso recuperare quindi no sotto no tutto sopra tutto quello che è tre quarti benissimo sopra tre quarti sopra altre domande dovremmo fammi capire se ho capito bene palla sì quello lì ah lo lasciamo mi spiego meglio intanto fino a dove se è gomito sali lo lasciamo fino a quando fino a quando la palla va vai buttati dentro siamo a zona per cui noi vogliamo andare insieme e non anticipare non ci interessa è chiaro che la chiave deve essere mai sotto cioè mai sotto il post alto se no non ci arrivi se no non ci arrivi diverso che sì adesso non ho visto come era lui vieni torna indietro non ho visto come era lui ma l'indicazione che diamo a lui togliti è questa sempre questa ok addirittura a volte questa perché tanto io non devo vedere niente dietro ok cioè quando arriva uno lo vedo anche se sono così ok a me non piace tanto però per esempio Gergati che era voi avete visto giocare a Torino è anche uno furbo diverse volte si metteva così non ho capito perché ma però l'idea è andiamo insieme alla palla e mai in anticipo dicevo se invece la palla si sposta radicalmente ok è cambiato proprio lo schieramento ultima cosa la palla e ogni tanto succede la palla si sposta e quello taglia per andare a sovrannumerare di là fallo piano piano adesso è vai lui che si accorge di essere solo marcalo chico se no ha fatto canestro da tre punti come prima ok corre addosso alla palla via di là boom ok e così ci riprepariamo ad andare ad andare a fare un eventuale elastico sul lato debole ok però anticipiamo mai i passaggi quindi in questo caso se la palla arriva fino al gomito e questo sale a noi sta bene quando la prende ci preoccupiamo è chiaro che se ci preoccupiamo che siamo là dietro e quello ci fa un blocco di contenimento è troppo tardi da preoccuparci dal centrale sì può succedere questo prima c'è stata una clip con Ali Begovic ricezione proprio centrale non lo so tu non ci sei via di là vieni a giocare un post basso ok scusami palla là seconda linea ok intanto questa mi sono dimenticato di dirvelo prima la posizione di buttare al centro qui è una posizione che è funzionale a togliere quei passaggi là ma anche a rendere un pochino più difficili i passaggi al post basso perché toglie l'allineamento di passaggio dovrebbero passarglielo da dentro e non è facile ok detto ciò la palla entra vai tu apriti ok la nostra richiesta era questa ok ma non cambia niente regola quando la palla andava dentro per noi why 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 coppie sì sì no no perché se non c'è post probabilmente quello là è un tiratore adesso quello là perché ho identificato lui come l'altro lungo ok probabilmente quello là è un tiratore allora per noi a quel punto lì se quello là è un tiratore questo lui questo giocatore sta qui eh ma già negli occhi quel giocatore là questo giocatore sta qui eh ma già negli occhi quella cosa là e noi qui passiamo a uomo diverso è vai nel mezzo angolo palla vai aiuto boom quando sulla stai lì che sei bravo stai lì fermo lì ok sul passaggio cosa chiami su cazzo sul angolo bravo ok tu ti giri e non vedi nessuno ok molla di limonare con quello lì dove dovrai essere pronto a darci una mano bravo ok boom adesso lui la piglia e la butta per terra subito stiamo andando in bocca al 5 se lui la ferma clip di Ali Begovic prima faccio io un attimo contro da Ross se lui la ferma adesso non è che stiamo così lui infatti prima è stato bravo è arrivato poi questo stava fermo e cosa hai fatto prima bravo ok adesso stiamo così qui dovete contestarmi una cosa invece che se questo corre nell'angolo questo è un tiro da 3 punti che cosa avremmo fatto noi la seconda azione palla in mezzo angolo abbiamo appena preso una bomba la volta dopo che la palla in mezzo angolo no no white 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 prendilo aspetta aspetta Kiko sta fermo fallo accoppiare accoppiati Vince ok stai dentro l'area white 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 ok boom ci accoppiamo ok sepigliamo una bomba in verità vi dico io l'anno scorso ho combattuto avendo l'igarri sei a uomo anticipalo sei a uomo sei a uomo avendo l'igarri e questo giocatore con l'igarri flottando ogni volta io ho combattuto una stagione intera a convincere questo qui a venire qui e ho perso quindi questa non è una cosa così naturale però se succede la prima gliela facciamo fare la seconda ci accoppiamo il playmaker in che senso lui ma lui è il primo che tocca la palla il playmaker è l'ala quindi la palla era in punta è venuta in ala ok l'abbiamo attaccato con la seconda linea ok se lui scende in palleggio lui si siede cioè si siede in panchina perché la sua regola qui quella famosa dei close out è che non si deve far battere al centro eh al fondo perché se mi batto se vado al centro tu come sei? ti ricordi la parola di prima? sì? l'abbiamo chiamata in un modo scout string quindi sei aperto no? per cui se questo va di qui abbiamo tutta l'organizzazione del mondo se questo attacca può succedere se scende in palleggio per fare qualche cosa non esiste cioè per allinearsi non esiste quello che può succedere è che una volta questo la piglia uomo zona che sia questo la piglia e attacca e vabbè aiuteremo scaleremo però non deve poter scendere per allinearsi per un passaggio ok sono dieci minuti alle dieci dovete dirmi voi in tutta franchezza se volete vedere come la sviluppiamo brevemente oppure se sono già stato sufficientemente chiaro così con tutto quanto direi che possiamo andare a cena ditemi voi la seconda giusto? ah no voi parlate di sviluppo? ok state per essere trucidati lo sapete ok ho sentito una domanda? no ok la facciamo veloce voi dovete darmi una mano ragazzi perché se no stiamo qua fino a mezzanotte e mi licenziano ok vai dove è il mio postalto? bravo vieni a giocare in postalto no scusami gioca tu in postalto tu gioca sulla rega di fondo ok benissimo ora oh non fatemi fa figura di merda eh l'ho spiegata bene anche a voi ok bene ora prima situazione teniamo le posizioni fisse ok e addestriamoli a saltare alla palla e a posizionarsi in attacco voi dovete passare la palla tenerla un secondo me la ributto indietro grazie vai me la ributto là boom ok stop fine voi due dovete solo fare i bersagli mobili ok voi due chiaro? bene pronti? ci siamo? vai via salta la palla string attacca la palla bravo anticipa il postalto bravi ribalta bravi ok bravissimo stop perfetto ok ovviamente corro eh secondo step adesso io dico a Giancarlo Riccardo non ti avevo ancora chiesto vero? quindi sono rincoglionito il giusto chiedo a Riccardo di muoversi di muoversi se vuole in angolo ok no mezzo angolo eh Ricky in angolo cerca di arrivare decidi dove andare e cerca di arrivare una volta col tempo giusto ok in modo tale che loro debbano allenare la chiamata angolo debbano allenare anticipalo che quel giocatore aspetti il compagno che arriva per poi recuperare bravissimo verso l'angolo ok ci siamo? pronti? vai ci siamo? vai via posizionamento difensivo attacca la palla spingilo in mezzo stop bomba ma se sei libero cosa fai? di nuovo vai come ti chiami? Stefano devi aspettare che Matteo arrivi Matteo devi arrivare vai via opa opa attacca la palla e anticipa attacca la palla e anticipa il postalto ok stop Ricci non hai indovinato un gran momento per andare in quell'angolo lì perché la palla sta andando ok di nuovo vai via andiamo vai vai spingilo in mezzo angolo stop bravi Niccolò Stefano Stefano sei stato bravissimo perché hai usato il piede sinistro per andare in là devi andarci con un po' più di cazzimma perché se ci fosse un passatore migliore il passaggio sarebbe più rapido adesso Ricky torna indietro giochi nel mezzo angolo e qui Vincent e Stefano devono essere bravi a mollare ho sbagliato vabbè ti piace uguale ok dai la palla qui mandala in mezzo mettiti lì passa la palla deve essere bravo a mollare come minchia tu te l'hai fatta tieni il perno destro così giusto? perché devi correre là ma poi vedi che la palla è lì giusto? vai ok boom quando la palla va dentro tu cosa puoi fare? bravo tu cosa puoi fare? copri e riaccoppiati e tu vieni dentro l'area giusto? ok adesso giochiamo in questo modo no fatti pure i cazzi tuoi certo che devi parlare non sa dove la palla angolo vai via stai aperti verso la palla attacca la palla mi appressa là dai stop e dagliela però dai che ha fatto tutto questo sforzo dai avanti 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 forza angolo bravi stop bravissimi devo rimetterlo vabbè dai la palla lì vi dico una cosa che non gli faccio fare angolo gira il piede copri e ritorna stop occhio solo a questo giocatore perché loro adesso sono teneri sono bravi e sono tutti perfetti ma qui se io sono l'allenatore dell'attacco la prima cosa che dico quando vedo questa cosa è buttala di là e quindi per un attimo quel giocatore lì è preso in mezzo a due e deve essere pronto a volare che cosa succederà qua la stiamo veramente facendo complicata secondo voi occhio eh prima linea prima linea seconda linea secondo linea se la palla vola qui e dobbiamo uscire con un giocatore di prima linea è una situazione facile o difficile per poi risistemarci è una situazione stradimerda vedo finalmente due dita là in alto che mi piacciono questa sarebbe una situazione in cui chiamiamo white 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 e ci accoppiamo perché venire fuori di lì è un bel problema poi facciamo una cosa e onestamente questa l'ho rubata al professor Poletti mettiamo il sesto attaccante bianco è dormito tutta la sera benvenuto nell'angolo perfetto allora adesso alla difesa scusate all'attacco chiediamo di mantenere tu puoi giocare da gomito a gomito non di più tu puoi giocare da angolo basso dell'area a angolo basso dell'area non di più voi tre dovete stare fissi e tu invece che sei bello fresco e riposato puoi stare nell'angolo o attraversare e andare nell'angolo opposto sei contro cinque situazione difficilissima siamo verosimilmente sempre a fare degli elastici alleniamo il timing dell'elastico alleniamo la tecnica dell'elastico dobbiamo essere aggressivi contro la palla perché sennò balliamo tutta la sera ok chiaramente tutte le situazioni che ho fatto vedere prima all'inizio didattico cioè un paio di giri di pim pum pam 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 e ci alleniamo poi si gioca ok su quella traccia lì anche qui qui di solito quando faccio cinque contro sei o meglio sei contro cinque è sei contro cinque qui quando fischio chi era in attacco viene in difesa chi era in difesa piglia la palla e va in attacco e di là si gioca cinque contro cinque invece ok oppure inventate quello che diavolo volete ma noi alleniamo di solito andando subito sulle tracce siete pronti o ragazzi c'è da ballare qua eh cioè qua dovete proprio muovere muovere il culo ma per caso avete i 24 secondi accesi no c'hai i 24 accesi c'hai la console lì niente lascia stare pronti oh siete pronti non fatemi fare figure di merda eh pronti vai attacca la palla bravo ho che non andare sotto al postalto stop non ho sentito eh ma tu sei libero cosa fai non gliela dai ti sta antipatico eh allora pronti vai stop non ho sentito minchia Luca Garri eh non è vero Luca Garri invece Luca Garri invece era un fenomeno a capire quando quel giocatore là era pericoloso o no lui tira da tre punti o no non so è un tiratore cazzo giochi insieme è un tiratore o no è un tiratore di sassi ecco perché non chiami angolo vabbè fai che è un tiratore pronto bravo bravi stop di nuovo devi dargli una mano a Vincent Cassel eh che ha cambiato nome devi arrivare prima grida di più angolo bravo stop bravi oh non è facile adesso lui era contro il postalto è venuto qua io gli ho chiesto di arrivare un attimo prima è arrivato un attimo prima adesso lui torna la palla qui copri il postalto e chi l'hai passata bravo passagli la palla e cosa dobbiamo dire a lui è di andare sul postalto ok di andare sul postalto poi è chiaro che questi sono sei quindi poi è una situazione davvero complessa ok ma lui deve avere l'idea che ho attaccato la palla la palla non c'è più vengo qui poi postalto non postalto vediamo quello magari fa finta la passa indietro e sono già qua ok però nella testa deve avere di andare in postalto una cosa sul pick and roll andiamo avanti manteniamo lo stesso schieramento ritogliti grazie ok benissimo passa la palla bene vieni fino al mezzo angolo e lascia perdere ok ritorna indietro la palla vai attraversa vai a fare un tiro dalla parte opposta ok vieni a giocare pick and roll ok pick and roll da stop sopra o sotto sopra ok quindi cosa facciamo e tu cosa fai bravissimo bravissimo ok vieni qua adesso cosa succede tu che hai bloccato cosa fai no tu sei stato bloccato tu che hai bloccato cosa fai bravo ok perfetto adesso per il nostro tipo di difesa dobbiamo addestrare lui a non andare come uno scemo subito di qui ma ad aspettare un attimo perché se lui facesse short roll che fa molto figo ma in serie A si vede un sacco è ancora roba sua se lui va profondo allora adesso lui può cominciare ad adeguarsi passa la palla di là cosa succede angolo boom proviamo di nuovo oh raga adesso in difesa cercate di andare davvero cercate di andare a una velocità normale pronto vai muoversi con la palla vai 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 cambia hop bravo ok ok angolo hop hop stop bravi adesso dovremmo allenare Stefano ad essere ancora più dalla palla qui veloce sono già migliorato sullo skip ah no eri tu l'uomo dello skip togliti ad essere ancora più confidente a fare questo cioè a togliere la linea di passaggio lì mi batta il centro mi batta il centro invece lui è andato tecnicamente corretto ma un pochino moscio e la palla è arrivata lui invece deve proprio andare oh di là si è spaventato ah ok bene torna indietro vi faccio vedere l'ultima per esempio di pick and roll da sotto ok post alto tiratore vieni tu tu vai laggiù sul lato debole tacca piena lato di là di là di là di là di là ok stop bravissimo ok adesso altra situazione sempre dello stesso set che gli attacchi ci propongono passa la palla tiratore vai a sovrannumerare tiratore vai a sovrannumerare l'angolo cosa facciamo angolo angolo tu cosa fai bravissimo ok perfetto passa la palla in punta vai vieni a fare run in pick and roll che diceva Stefano prima ok stop pick and roll da sotto difendiamo col 5 ok decidi tu non mi ricordo scusa devi difendere tu sul pick and roll ok come ti chiami che non mi ricordo Alessandro Alessandro decidi tu che difesa fare ok contenimento cambio aiuto il recupero dagli un pugno fai quello che vuoi siete pronti siete pronti bene buona via palla in ala ai go bravissimi ok ok stop bravi ora facciamo la figata l'abbiamo vista prima nella clip palla qui vai ok la clip in cui stai là stai là stai là state là state là state là Vincent Cassel stai lì fermo lì tiratore valentine apriti eri nell'angolo Riccardo Riccardo giusto ok pick and roll di corsa vai avete visto prima nella clip Garry che arriva e cambia ok stop cambio giusto ora in linea teorica lì dietro abbiamo un giocatore più di taglia che questo qui quindi cambio vieni giù con roll vieni giù con roll stai dentro l'area prendi il roll stai la palla lì ok tu prendi il roll e qua andiamo a prendere l'angolo lì poi non è uomo zona lì è roba roba vostra ok basta vi faccio vedere solo il doppio pick and roll alto flash mettete un doppio pick and roll alto dai un doppio pick and roll alto you know ok dai ragazzi sembrate Salvini e Di Maio uno di qua uno di là mettetevi d'accordo dai ok stop bravi questo è lo schieramento un po' più larghi ragazzi questo è lo schieramento della nostra zona e deve rimanere tale anche contro il doppio pick and roll alto chiaramente vai dove vuoi dove va la palla facciamo cambio cosa fai? ti butti dentro? vai chi lo prende? bravo ok tu chi prendi? bravo ok giusto clip di prima muovi la palla vai vai a fare pick and roll pick and roll da sopra cosa facciamo? cambio bravo ok e qui c'è uno dalla panchina che chiama uomo torna indietro un piccolo dettaglio torna qua torna qua torna all'inizio 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 tiratore non tiratore secondo te occhio eh questo è il quiz della serata poi andiamo a cena se lui tira e lui non tira e sul doppio pick and roll alto noi vogliamo difendere come hai visto dove è meglio che il tuo compagno ti indirizzi la palla verso chi non tira o verso chi tira democrazia cristiana perché? non lo sai 50% perché? perché dopo? ma puoi anche fare pick and pop va bene stai dietro di lui se abbiamo un tiratore vero e un non tiratore consiglio mio indirizzare verso il tiratore mi spiego meglio se lui va sul 5 e noi abbiamo detto che facciamo cambio per un attimo questo è completamente libero o comunque dobbiamo chiamare la seconda linea e poi è un problema invece noi possiamo tu ti metti dietro e gli chiami spingilo a su vabbè allora spingilo su perfetto tu dove ti metti? bravo vicino a lui cambio almeno stiamo col tiratore no? poi se molliamo un attimo il 5 vabbè molliamo un attimo il 5 se tutti e due sono tiratori forse è meglio che state a uomo e avete risolto il problema ok tutto chiaro? un applauso ai ragazzi perché fare questa roba ci abbiamo messo un anno e loro come ci hanno provato in una serata vi ringrazio ma voglio solo dirvi una cosa quanti istruttori del settore giovanile ci sono qui? istruttori del settore giovanile ci sono? allenatori del settore giovanile? ah quindi più allenatori di prima squadra che del settore giovanile bene mi fa piacere ma un appello che ho deciso che farò a tutti i clinic da qui alla fine della mia vita il mio problema nel costruire le squadre di serie B e di serie A2 e prima di serie C non è stato quello in Italia di trovare i lunghi che è incredibile ma è stato quello di trovare non playmaker guardia no no gente che sapesse palleggiare quindi se io vedrò questa zona sui vostri campi sarò contento perché vuol dire che vi avrò dato un'idea ma vi faccio un appello per tutti gli allenatori di prima squadra che nei prossimi dieci anni dovranno allenare dei giocatori insegnate a questa gente a palleggiare perché mi sembra di essere Mario Pony ma ragazzi la gente non sa più palleggiare e siamo costretti ad andare a prendere tutti i palleggiatori americani i pivot se non nascono li prenderemo americani lituani slavi quello che volete vi prego siccome siamo una popolazione di nani bagunghi almeno insegnamogli a palleggiare per davvero poi la 2-3 matchup avremo tempo vi ringrazio e buona serata grazie grazie grazie